Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questo sarà un video estremamente rilassante, con diversi rumori di sottofondo, perché la pagnolina ha trovato un legnetto durante la passeggiata e ha deciso di portarlo solo a casa, quindi se sentite rumori è perché lei sta giocando con questo legnetto. Comunque il video di oggi sarà un video in inaudible e di hand movement e spero che vi potrà rilassare e accompagnare il vostro sonno. Iniziamo subito. Grazie. 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 Grazie.